Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Coinzone Trovi link e codice coupon qui in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti più di bentornati su Giochardispo Io sono Giochardispo e bentornati con un nuovo episodio della serie Road to Glory Questo è l'episodio numero 15 In questo episodio non farò acquisti Perché comunque la mia BBVA è buona Così come anche se dovrei cambiare qualcosa Per esempio Miranda Non mi è piaciuto particolarmente E nemmeno Turan Quindi probabilmente nel prossimo episodio acquisterò un altro esterno sinistro E un altro difensore centrale Dunque vi invito a commentare contro il nome di un esterno sinistro e di un difensore centrale Comunque questa è l'antimo partito di oggi Abbiamo un'altra BBVA contro con Dos Santos, Vela, Griezmann, Antunes If Rapidic, quelli più importanti diciamo Però il primo gol arriva con il cicciarito, il pissellino Hernandez Al sesto minuto un gol della merda Lo so però è pur sempre gol Il mio avversario invece segna con Carlos Vera dopo qualche minuto Però la partita termina così La prima partita di questo episodio termina con un pareggio Pareggio che va bene perché in sostanza non è una sconfitta È sempre un punto, è meglio di niente Poi incontriamo questa squadra che l'ha fatta veramente con il culo Perché ha un'intesa bassa David Luiz che non c'entra una ceppa E infatti io posso segnare tranquillamente con Zongo Il bagatissimo insieme a Diavara Sono due bagatissimissimissimi E fa anche un altro gol Zongo Per il 2 a 0 Rakitic il tiro prende il palo David Luiz spazza male La recupera Mandzukic che la tira di destro Bel tiro, bel tiro Poi Sousaeta per la testa di chi non so Però essendo il portiere uscito un po' a casaccio Zongo la infila per il terzo gol per la sua triperetta personale Dopo questo 4 a 0 Era il sessantesimo se non erro Il mio avversario quitta curiosamente Quindi mi danno di da 3 punti Che mi permettono di ambire alla promozione E' molto molto bene Comunque Zongo è forte, è veloce Però diciamo è a tratti E' a tratti come tutti i giocatori in questo video E' a tratti 4 a 0 vittoria 3 vittorie, una sconfitta In questa divisione molto bene Poi incontriamo questa serie A veramente forte Abbiamo Evra, Barzali, Chiellini, Maicon, Vidal, Pogba, Amekicio Gervinio, Tevez, Quadrado e Buffon in porta Io a posto di Buffon avremmeno solo andando Non dice Diego Lopez, però comunque è forte Primo gol arriva con Mandzukic di testa Al decimo minuto Molto molto bene Una doppia arriva con Rakitic Dopo qualche minuto al quindicesimo minuto E dopo questo gol il mio avversario quitta Il secondo avversario che quitta di fila Vabbè, forse si credeva più forte Essendo che è una squadra molto più forte la mia Però come vi ho sempre detto Non conta i giocatori che si hanno Conta come li si usa Se si sanno usare veramente bene Incontriamo un'altra serie A Questa volta è un po' più bagata Perché abbiamo Ibarbo E abbiamo Iguain, Iguain, il Sotman Pirlo, Cdc che non c'entrò un cazzo Però vabbè Il primo gol di questa partita Arriva al secondo tempo All'82 Esmond per la precisione Qua arriva un altro gol Che c'è sempre un altro polonetto Faceva uscire sempre il poltiere E faceva sempre il polonetto E in finisci così 2 a 0 E' stata una partita molto combattuta Infatti anche il mio avversario Avrebbe meritato il pareggio Oppure la vittoria Però niente da fare In questa partita Otteniamo anche la promozione Quest'ultima partita Come avete ben visto In questo episodio 5 partite Sì perché Voglio fare più partite a episodio Visto che 3 partite non Diciamo non Ci mettere una vita Per finire questa sera Comunque il primo gol arriva Con Regalaglio L'ho proprio regalato Stavo mangiando E inizia dalla partita Ma stavo mangiando Quindi Gli ho regalato Comunque io non mi arrendo Come al mio solito Con un gratuito Ci segno L'1 a 1 a 31esimo Poi c'è Zarate Che la passa a Miralas Sì si Smac 2 difensori Corre E' in fila Un mancino micidiale Ancora Zarate corre Però Miranda Ci pensa a lui A far fare un calcio di rigore Contro Contro di noi Ci pensa sempre 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 Miranda Se ci fate caso È stato sempre Miranda A fare Fare rigore E viene espulso Per la seconda volta Cioè io Miranda Non mi piace Quando si gioca così Non mi piace proprio La puntata di questo calcio di rigore Andrà Mira là Mira qua Mira su E mira giù Ok Scusate questa battuta di merda Comunque il gol Arriva sul calcio di rigore 3 a 1 Il 71esimo ormai Sembra quasi chiuso La partita però Mandzukic ci pensa Lui All'87esimo minuto E al 90esimo minuto Su questo Calcio d'angolo Schema Tutti sul portiere Disturbare il portiere Rakic La cross in mezzo Per la testa di Mandzukic Che ci arriva E la segna Al 90esimo minuto E la chiude qui Pareggio Meritatissimo Perché Nonostante eravamo Uno in meno Abbiamo pareggiato Secondo me il mio avversario Era incazzato A bestia Perché gli ho regalato Due gol Non uno Gli ho regalato due gol E stavo giocando Con uno di più Un giocatore in più Rispetto a me E nonostante tutto Ha pareggiato Vabbè Comunque non fa niente Vi invito dunque A dirmi il nome Di un difensore centrale Di un esterno sinistro Della BBVA Vi invito a commentare Mettere un bel pollice All'insù Iscrivetevi al canale Ci vediamo domani Ciao ragazzi